Cagliari! Siamo all'arrivo, anche per questa prima batteria, le prime due posizioni, Superman burnevano all'inizio di Nara. Grazie mille! che ci stanno oggi e potranno identificare nei primi primi anni. Dai Aurora fino in fondo che si attenzia, dai! No qua no! Ancora vivo, proviamo con la... Capita la prova anche per queste atlete, per queste concorrenti. Nella battaglia numero 24, programmate per i primi quarti in Olimpica, quindi vissi che questa notte vi rossi in pergolto in gara. Siamo ai due trementi dal raguardo, con la battaglia numero 24, come detto, superaventura. L'ultima batteria, Rino Siena. E' la battaglia anche per la quarta batteria di un orto a Sverno Milo. Andiamo completando l'ordine di patenza per i due semi dinami di questa prova sprint. Vilcina. Grazie. Grazie.